Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD è davanti a tutti nella loro intenzione di sfiduciare, cioè di far perdere il lavoro da sottosegretario all'economia a Durigon. Ricordiamoci che i sottosegretari, come i ministri, come i viceministri, tutti prendono uno stipendio aggiuntivo a quello parlamentare. Diciamo che lo stipendio base in Parlamento sono 13.000 euro netti al mese, 1.000 euro in più per i senatori, 14.000, qualcosa del genere. Mentre quando poi avete un incarico ve lo pagano in più. Quindi si arriva, ad esempio, se un parlamentare è anche ministro, guadagna magari circa 19.000 euro. Poi se è sottosegretario, si guadagnano più o meno, si arriva sempre vicini ai 20.000 euro netti al mese. Adesso, dopo che questo Durigon della Lega ha detto, parlando in centro Italia, a Latina se non sbaglio, dicendo che bisognava togliere il parco intitolato a Falcone Borsellino e rimettere quello intitolato ad Arnaldo Mussolini, il fratello di Benito, la sinistra c'è andata a nozze con una cosa del genere. Quale cosa più prelibata è dire una cosa del genere in Italia? E così, Leo, Cinque Stelle, capitanati dal PD, chiedono la cacciata di Durigon dal governo. Salvini lo difende, come tutta la Lega, dice ma ha solo dato un consiglio al sindaco, prima il parco si chiamava così, adesso voleva... Ecco, naturalmente questo Durigon, io dico, ma prima di parlare, ma prima di parlare, ma pensa quello che stai dicendo, pensa quello che stai dicendo, queste robe qui non si possono dire in Italia, c'è il PD che costruisce castelli di sabbia su queste cose qua, proprio su queste cose qui continueranno da adesso in poi ad attaccare Giorgia Meloni, l'abbiamo già visto, se noi gli diamo, se noi, se noi inteso tra virgolette, se i leghisti in questo caso danno pane per i denti dei sinistri, questo è proprio pane per il loro tent, pan per il loro tent, dico io, ma prima di parlare, ma prima di parlare, contate fino a dieci, cioè che cosa sto dicendo? Ma lascia perdere il parco pubblico, ma parla di un'altra cosa, vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, i politici italiani sono realmente imbarazzanti, imbarazzanti, questo l'ho detto anche nel video precedente, io ho capito ultimamente che chiunque in Italia può fare l'onorevole, chiunque può tenere il titolone di onorevole, ma onore di che? Niente, onorevole, vabbè, così in testa a tutti c'è Enrico Letta che si è molto esposto, figuriamoci, e non tornerà indietro dopo aver detto che, e questo, cioè Letta che costruisce il suo partito contro Salvini e la Lega, una cosa del genere per lui è aver fatto bingo, aver vinto la lotteria di Capodanno. E così Enrico Letta ovviamente, come vi dicevo, non demorde, e dice infangano in un colpo solo la memoria di due eroi civili come Falcone e Borsellino. Poborghi, quello dei Dem, Radio 24, assicura che la mozione di sfiducia sarà presentata e sarà votata. L'assista al fronte anti Durigon arriva dal calendario. Ieri ricorrevano i 77 anni di alcuni eventi del passato. Beh, la capogruppo Dem, Deborah Serracchiani, ritiene inaudito sostituire la memoria di Falcone e Borsellino con quella di Arnaldo e sprona Durigon a lasciare. Diversamente ci penserà il Parlamento. La mozione chiederà a Draghi di invitare il sottosegretario di mettersi in caso di rifiuto a revocargli le deleghe, cosa che spetterebbe al ministro Daniele Franco dell'Economia, ma questa soluzione avrebbe un impatto minore rispetto alla revoca dell'incarico. E poi scende in campo anche lampi su questo. Ve l'ho detto, queste cose qui è pane, è pane per la sinistra e servire su un piatto d'argento tutto questo che sta succedendo. Per quello che io dico, ma prima di parlare contate fino a 10 o meglio, per alcuni è meglio contare fino a 20-30, no? Oppure telefonate a un amico dice, guarda sto per dire sta cosa, secondo te? No, fermo, fermo, ma cosa stai dicendo? No, parla del tramonto stasera, ma non parlare del parco. Ecco, insomma, ipoteticamente in una situazione fantasiosa mi avesse telefonato questo Durigon, senti, tu che dici? Dico sta... no, 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 questo è pane per i denti della sinistra, ci vanno a nozze queste cose qua. E adesso sarà un bel problema. Un bel problema. ma Durigon che cosa dice? Strumentalizzazione per colpire Salvini. Beh, diciamo che adesso lui dice, no, ma io, sempre dice Durigon, io a casa mia intitolerei cento parchi alla memoria di Falcone Borsellino. Beh, insomma, non è proprio il messaggio che è passato, eh? Non è proprio il messaggio che è passato. Io, personalmente, non cancellerei mai un parco intitolato a Falcone Borsellino. Sarà anche perché sono due miei personali idoli, due leggende per me, due vere e proprie leggende. Io non direi mai una roba del genere. Io non direi mai una roba del genere. Invece ci sono politici che neanche ci pensano a quello che stanno per dire. Come ve lo dicevo prima, ripensa prima di parlare. Pensa prima di parlare. Beh, insomma, diciamo che... Adesso, che cosa farà Giorgia Meloni? Giorgia Meloni potrebbe essere anche l'ago della... I numeri ce l'hanno già in Parlamento, eh? Ce l'hanno già. A questo punto Giorgia Meloni dovrebbe votare con il suo partito come coscienza dice. Giorgia Meloni dice, io non avrei mai, mai pensato di togliere... Quindi dovrebbe anche Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sfiduciare questo Durigon. Però immaginatevi tra finti alleati, perché nel centrodestra sono finti alleati. Non raccontiamoci la storiella del centrodestra unito, centrodestra disunito. Anzi, centrodestra probabilmente non esiste più già da diversi mesi. Ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.